Giulio, come stanno andando questi giorni? Stanno andando molto bene, il posto è molto bello, stiamo divertendo tanto. Una bella atmosfera che sta creando in questo torneo, che mi sembra sia la prima volta che lo fanno qui. Sono contento di come per ora sta andando e speriamo che di continuare così. C'è giovanissimo, di Ciano Venne, una delle grandi promesse, in particolare questo Challenger. Sei gettonatissimo o benissimo? Gettonatissimo, non lo so. Oggi sarà un match molto duro, come è stato quello di lunedì. Speriamo di riuscire a fare il meglio e magari di portare a casa la vittoria. Quando è che hai iniziato a giocare a Venne? Ho iniziato a cinque anni, con Piero, il mio stesso allenatore di ora. Abbiamo un ottimo rapporto, siamo tutti molto contenti del lavoro che stiamo facendo e cerchiamo di portarlo avanti. Il tuo allenatore che cosa ti consiglia prima di entrare in campo? Dipende, ogni partita è diversa. Adesso stiamo cercando di... abbiamo uno staff che mi segue su diversi aspetti. Credo che stiamo lavorando bene, comunque ogni partita sì e quindi ogni volta è diversa. Il punto di forza qual è? Io credo di giocare molto bene il servizio e il dritto. Comunque in difesa cerco di difendermi bene, però gioco molto bene in attacco secondo me. Studia anche l'avversario prima di incontrarlo? Beh, naturalmente è una parte fondamentale del nostro lavoro, diciamo, insomma, non tutti gli avversari sono uguali, anzi, e quindi è giusto cercare di provare a mettere in pratica, in pratica contro ognuno di essi.